Io penso che ci sia un attacco e credo che sia dai tempi di Berlusconi che non si vede un astio simile nei confronti di un esponente politico, perché poi basta vedere quello che gli scrivono sui social e quello che viene scritto a tutti quelli che sono accusati di supportare Salvini. In più Salvini rispetto a Berlusconi ha questo stigma del fascismo, no? L'altro giorno Repubblica aveva l'anticipazione di un libro di Claudio Gatti dove si dice che ci sono addirittura i nazisti infiltrati nella Lega, che è una cosa da Blues Brothers, i nazisti di Linoise, che se sono infiltrati nella Lega da vent'anni non si capisce che risultati abbiano ottenuto questi nazisti. Ci sono gli striscioni, ci sono gli attacchi per strada, oggi a Napoli c'è stata una contestazione piuttosto ruvida, poi ci stupiamo che vada in giro con le macchine di scorta, però io credo che ci sia, è il motivo di tutto questo astio, che quelli che dovrebbero fare opposizione fino adesso sono concentrati esclusivamente appunto sull'uomo Salvini, cioè Salvini è al centro dei discorsi di tutta la sinistra italiana ancora prima che governasse, e l'Uni è il loro spaurato. Quindi si ripete lo schema Berlusconi diciamo? Peggio!